Siamo usciti un po' fuori dal tema, qui parliamo dei lotti industriali con Prensorio Acilia Dragona che il Comune di Roma dà in gestione a dei prezzi che erano invariati prima del 2000. Semplicemente questo emendamento vuole adeguare questi importi, lasciando comunque degli importi molto più bassi dei canoni di mercato perché stiamo parlando di una revisione che forse andava fatta già qualche consolidatura fa. Si è parlato prima di non aumentare le tasse ma il Comune di Roma eventualmente deve anche cercare di quando dà propri beni in affitto, in gestione, in vendita a dei canoni e dei prezzi non ridicoli o irrisori perché altrimenti i servizi non è giovano e questo è un caso di questi. Semplicemente si tratta di un adeguamento, lo trovate nelle premesse, tutta la storia che ha portato a questi costi che sono parte oneri concessori e in parte portano al prezzo di 10,37 euro. Oggi sono stati adeguati a 15 o 20 a seconda che siano rispettivamente aree artigianali o industriali. Grazie.